benvenuti al corso di formazione presentazione digitale e conservazione della cucina rituale europea. Modulo 3 Editing di rappresentazioni digitali di ricette rituali. Come modificare fotografie e immagini fisse. App per smartphone open source per l'editing. Snapseed. Editor di foto Lumie. InShot. Alla fine della lezione, i studenti conosceranno le principali tecniche per l'editing di fotografie utilizzando app gratuite e open source per smartphone come Snapsys, Lumie Photo Editor inShot. L'obiettivo del nostro corso è quello di fornire le competenze più appropriate per la digitalizzazione delle ricette rituali, quindi il genere di fotografia più vicino a questo aspetto è la fotografia alimentare. Ci troveremo quindi a dover prendere immagini fisse, con diverse situazioni di luce e ombre. Non abbiamo il compito del fotografo gastronomico che deve creare immagini per il marketing o per il ristorante e poi rendere le immagini accattivanti e appetitose. Il nostro compito sarà quello di raccontare e documentare senza dimenticare di produrre un'immagine di qualità e ben fatta. Ricordiamo alcune regole basilari. Utilizza la luce naturale se è possibile. Scatta foto con un angolo di 45 gradi o 90 gradi. Utilizza le regole di composizione. La scena deve essere studiata. Utilizza le lunghezze focali fra 50 mm e 150 mm. Utilizza uno sfondo di colore neutro. Utilizza piatti di colore scuro o neutro. Usa il bilanciamento del bianco corretto. Per quanto riguarda l'attrezzatura potremmo dotarci di un treppiede o monopod, un piccolo set di luci con scatola morbida e pannello riflettore. Tuttavia, potremmo non trovarci con questa attrezzatura disponibile, quindi sarà importante essere in grado di avere competenze per modificare le nostre fotografie nella fase di postproduzione. La postproduzione fotografica, che deve la sua ampia diffusione con l'avvento dell'immagine digitale, è quell'attività che comprende tutte quelle azioni volte a migliorare e modificare la foto appena scattata. Grazie all'utilizzo di costosi e sofisticati programmi professionali, ma anche grazie a programmi open source e gratuiti, è possibile modificare luci, contrasti, intensità, vivacità dell'immagine digitale. La postproduzione ha avuto luogo anche quando è stata utilizzata la pellicola fotografica, ma è stata riservata a pochi specialisti, che hanno dovuto utilizzare componenti chimici, frese e fare un grande sforzo artigianale, artistico e tecnico insieme per modificare un'immagine fotografica. Oggi basta scaricare un'app di fotoritocco, anche gratuita, sul tuo smartphone per migliorare le nostre foto. La postproduzione fotografica è un processo decisionale rispetto a ciò che la foto, con i suoi colori e la sua intensità, dovrà comunicare. La postproduzione fotografica trasforma quindi la foto in un vero e proprio potentissimo mezzo di comunicazione, mantenendo intatto il suo valore di oggetto, reliquia, memoria, conoscenza, documento. Una volta scattate le nostre foto, ci renderemo subito conto se la foto ottenuta corrisponde alle nostre intenzioni di partenza o se abbiamo commesso qualche errore nell'esposizione o nel posizionamento delle luci. L'unica cosa che non possiamo correggere se non utilizzando software più complessi e costosi è la composizione. Se la composizione è corretta, possiamo riprendere la foto o ricorrere alla postproduzione grazie alle applicazioni per smartphone. Snapseed è un'applicazione di fotoritocco sviluppato da Google ed è ora diventato uno dei migliori e più popolari editor fotografici gratuiti disponibili sia per iOS e Android. L'applicazione dispone di 24 strumenti e vari filtri con cui migliorare le foto scattate con lo smartphone o il tablet, consente di aprire e modificare le foto manualmente o con impostazioni di colore e di esposizione preimpostate, nonché ritagliare e ruotare le cornici, regolare la saturazione, la luce e la temperatura delle fotografie. L'app Snapseed può essere scaricata gratuitamente dall'Android Play Store o da negozi alternativi, così come dall'App Store iOS o iPad e iPhone, a seconda del dispositivo che possiedi. Snapseed è molto semplice e la sua interfaccia è davvero intuitiva. Una volta aperta l'app Snapseed sul tuo smartphone o tablet, premendo più, accederai direttamente alla galleria fotografica per selezionare le foto su cui iniziare a lavorare. Dal menu Stili è possibile scegliere tra una scelta soddisfacente di filtri da applicare alle foto, mentre nel menu Strumenti sono disponibili una serie di strumenti di editing avanzati. Tutti gli strumenti di editing di cui l'applicazione Snapseed è dotato sono facilmente utilizzabili. Scorrendo il dito dall'alto verso il basso si sceglie il parametro da modificare o il filtro da aggiungere, da destra verso sinistra o viceversa è possibile regolare i valori del parametro scelto. La correzione dei parametri di luminosità, contrasto, saturazione, ambiente, luci, ombre e calore, intesa come la temperatura della luce, sono facilmente comprensibili e possiamo modificarli a nostro piacimento per ottenere l'immagine che vogliamo. Oltre ai filtri che sono automatizzati e che possiamo scegliere secondo il nostro gusto, Snapseed ha molti effetti che possiamo applicare alle nostre immagini in post-produzione. Quelli che potrebbero essere utili per digitalizzare le ricette rituali, al fine di focalizzare l'attenzione dello spettatore sui piatti realizzati, potrebbero essere sfocatura delle lenti e vignettatura. Con l'effetto sfocatura dell'obiettivo possiamo creare un effetto bokeh simile a quello ottenuto con l'apertura del diaframma nelle fotocamere Reflex. Possiamo decidere il punto centrale intorno al quale verrà creato l'effetto sfocatura e decidere quanta transizione lasciare tra il resto della scena e l'oggetto che sarà nitido. In questo modo creeremo un effetto che attirerà l'attenzione dello spettatore sull'oggetto più nitido. L'effetto vignettatura crea un alone scuro ai bordi dell'immagine. Anche in questo caso possiamo identificare un punto della scena fotografata intorno alla quale verrà creato l'effetto vignettatura. Infine, ci sono due funzioni che sono forse le più sofisticate su Snapseed, quelle che da sole ti permetteranno di ottenere foto con una qualità e un rendering quasi professionale. La guarigione consente di correggere ogni porzione della foto ed eliminare gli elementi indesiderati. Dopo aver selezionato lo strumento in questione, ingrandire la foto come desiderato con due dita e identificare l'elemento da eliminare. A questo punto, basta premere su di esso per eliminarlo. Selettivo consente di apportare correzioni in modo estremamente preciso in aree specifiche della foto. Una volta selezionato selettivo, premere su, più, e quindi sull'area desiderata, per associare un punto di controllo ad esso. A questo punto, scorrendo sullo schermo con il dito dal basso verso l'alto o viceversa, scegliere il parametro che si desidera modificando e regolando facendo scorrere il dito da destra a sinistra. Ricorda che puoi selezionare fino a otto punti su ogni foto. Una volta completate tutte le modifiche e ottenuta l'immagine che ti aspettavi puoi salvare l'immagine come copia dell'originale oppure puoi condividerla con i tuoi contatti via e-mail o pubblicarla sui social network a cui sei connesso. Anche per il salvataggio e la condivisione di immagini, questa applicazione dimostra la sua semplicità e facilità d'uso. In definitiva, Snapseed è un'applicazione molto potente e soprattutto gratuita. Il suo utilizzo non richiede una conoscenza approfondita. Con la pratica e l'uso frequente, diventa uno strumento indispensabile per la rielaborazione delle nostre immagini a cui possiamo dare forme diverse a seconda di ciò che vogliamo comunicare. Con la funzione HDR possiamo aggiungere l'effetto, al limite dell'iperrealismo, di esposizioni multiple al tuo singolo scatto, l'effetto drama migliorerà il dramma del tuo scatto, l'effetto grunge lo renderà più forte e più estremo. Ma non esageriamo con le caratteristiche. Applichiamo le giuste funzioni per migliorare e non distorcere la nostra immagine, ricordandoci la ragione e lo scopo per cui abbiamo preso l'immagine. Pratica tutte le funzioni di Snapseed e scopri il suo pieno potenziale. Un'altra applicazione gratuita e ancora più facile da usare, anche se meno potente di Snapseed, è InShot. Avere questa applicazione sul nostro smartphone per l'editing delle immagini è anche molto utile perché può essere utilizzato anche per l'editing video. L'App InShot può essere scaricata gratuitamente dall'Android Play Store, o da negozi alternativi, così come dall'App Store iOS o iPad e iPhone, a seconda del dispositivo che possiedi. La maggior parte degli utenti utilizza InShot per modificare e pubblicare video istantaneamente per diversi social network come TikTok, Facebook, Instagram o YouTube, in quanto a diversi formati, orizzontale, verticale e quadrato. Con InShot possiamo modificare le foto con infinite possibilità, applicare filtri, ritagliare, ruotare o capovolgere la foto, regolare tono, luminosità, colore, saturazione, contrasto, eccetera. Scegliere gli strumenti è particolarmente facile, basta scorrere con le dita e abbiamo la possibilità di scegliere se applicare filtri automatici per migliorare la nostra immagine e se vogliamo modificare i parametri dell'immagine fotografica come la luminosità, contrasto, saturazione dobbiamo invece selezionare regolare. Selezionando Canvas possiamo invece cambiare il formato della nostra immagine. InShot permette di scegliere il formato della nostra immagine per adattarla al meglio al social network su cui vogliamo condividere la nostra fotografia. Possiamo anche inserire uno sfondo colorato o scegliere una cornice per la nostra immagine. Anche per questa applicazione facile da usare e ricca di funzionalità, dobbiamo sempre avere in mente quale è il nostro scopo e il motivo per cui stiamo modificando la nostra immagine, dobbiamo quindi evitare di esagerare con gli effetti, ottenendo quindi un'immagine diversa e lontana da dall'originale. La post-produzione di un'immagine mira infatti a migliorare l'immagine nel caso in cui sia stata scattata con qualche errore tecnico ma non deve distorcere l'immagine originale rendendola diversa da ciò che i nostri occhi avevano osservato ma soprattutto da ciò che gli spettatori, a cui l'immagine è destinata, dovranno vedere. Ricordatevi di scaricare l'applicazione e scattare le foto, esplorando tutte le funzioni di questa applicazione per essere in grado di utilizzarla al meglio. Grazie per l'attenzione.